Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quenti Channel Posso dire che questo finalmente è il primo video che registro nel 2018 Non il primo video del 2018 sul mio canale ma il primo video che registro E come potete vedere infatti oggi è proprio il primo gennaio Cioè nel momento in cui sto registrando Lo si può notare anche dal fatto che sta ancora la neve su GTA Online Voi molto probabilmente questo video lo vedrete qualche giorno dopo Quindi quando vedrete questo video non ci sarà più la neve su GTA Online Comunque sia ragazzi come primo video dell'anno Andremo a fare un mega cazzeggio su GTA Online Vediamo un po' se riusciamo ad uccidere qualcuno con quest'auto A fare un po' di devastazione con quest'auto Tra l'altro ragazzi molti di voi mi hanno chiesto di fare Diciamo nuovi gameplay per quanto riguarda Death Run eccetera Le gare non penso le porterò più sul canale ragazzi Perché ho notato che ogni volta che porto le gare Si e no ricevo un 30 visualizzazioni E' molto poco diciamo E quindi siccome ho notato questo Diciamo questo problema quando carico una gara Diciamo che non se le caga quasi nessuno le gare E quindi ho deciso di non portare per adesso più gare sul canale Poi magari non si sa ragazzi Può darsi pure che voi preferiate qualche gara un po' strana da portare Non lo so consigliatemi voi nei commenti Ritorneranno invece i Death Run Allora ragazzi iniziamo subito Qui c'è già un giocatore Io sto nella modalità passiva Perché dovevo preparare il necessario per registrare Quindi mi sono messo un attimo in modalità passiva Iniziamo subito da questo qui che sta fermo Si è fermo Ok è morto Allora ragazzi Quest'auto è veramente stupenda Veramente fantastica Cioè è un'auto ragazzi che merita veramente tantissimo Merita di essere acquistata Perché potete fare tutto quello che volete con quest'auto Tra l'altro sono tutti fermi Che cazzo è questo pure è fermo Quanti siamo in sessione? Siamo sei Diciamo che siamo pochissimi Quindi direi proprio di cambiare sessione Magari trovare una sessione migliore Vediamo un po' Ok ragazzi ci stiamo avvicinando a dei giocatori qui sotto Sicuramente questi mi faranno il culo con i missili guidati Vediamo un po' cosa succede Allora avviciniamoci con calma Ok quello sta uccidendo quell'altro Si stanno uccidendo a vicenda Vediamo un po' se riesco ad ucciderli anch'io vai Buttiamoci così Aiuto Aiuto No quest'ora mi ammazza Quest'ora mi ammazza Eccolo 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 Salve Salve L'ho ucciso Mi sono ucciso anch'io però l'ho ucciso Tra l'altro sta parlando al microfono raga Ok allora Si inizia a usare un po' il cecchino dai Ovviamente con visore termico Perché c'è anche la neve E quindi con la neve non è che si vede chissà che cosa Sta scappando ragazzi Scappa Perché scappi eh Perché cazzo scappi Ok dove sono eccoli Uno Due Ok quello là sta Sta smadonnando ragazzi E' inutile che metto la chat vocale Perché sono stranieri Non capirete Non capirò un cazzo quindi Se fossero italiani Già stavo con le cuffie pronte Vabbè allora Qui ecco l'ho rispawnato Ora questo mi vuole sparare normalmente Guardalo guardalo Dov'è Che cazzo usi il cecchino A sta distanza Aia Ok Intanto Si sente il microfono Dov'è l'altro Dov'è l'altro Eccolo Guarda che scappa Guarda che scappa No 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 Ok Mila di merda oggi Tra l'altro Raga non ho più I proiettili esplosivi Perché No 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 Che cazzo fa Con i fuochi d'artificio Vuole uccidermi questo Ok Neanche una volta Mi hanno ucciso ancora Ripeto raga Non ho più I proiettili esplosivi Sul cecchino Perché Mamma mia l'ho colpito Ma non è morto E che cazzo aspetta a morire Oh Vieni qua Ora giochiamo a nascondino Guardalo E muori Intanto ragazzi Lo sentirete lamentare Non so che cazzo sta dicendo Vabbè Continuiamo dai Mi sta Mi sto divertendo Vediamo un po' cosa succede Dai Continuiamo Vediamo almeno se mi è ammazzato una volta Almeno una volta Allora Facciamo una cosa Vediamo Possiamo chiamare il nostro veicolo personale Qui sì Ok Perfetto Vai Me lo stanno consegnando Tra l'altro Vediamo un po' Qui c'è altra gente Uh Qui c'è la ricerca del boss No Devo andarci per forza ragazzi Voglio trovare il boss E ovviamente la macchina Me la spawna A mille mila chilometri Da qua Giustamente Eh Vaffanculo Facciamo una cosa Va Guarda qua il laser Che già capita E spawna da solo Il laser aveva già capito tutto Ha detto com'è In questo episodio Non mi vuoi usare Vaffanculo Mi devi usare E mi è spawnato davanti Perfetto Allora prendiamo il laser I mortacci del car armato Via 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 Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Quanto sono morto Da dieci a dieci Non sono morto A caso Non sono morto Non sono morto C'è il car armato davanti Ma non sono morto Ok ok Dai scendiamo E non perdiamo tempo Dai dobbiamo trovare il boss Attenzione Ce la farai? Questo secondo me Sta su un tetto Qualcosa di simile Attenzione Ce l'abbiamo fatta Io Eh infatti Sta qua sotto Guarda Sta pure camperando Che bastardo A genius ragazzi Qua ora c'è tutta Un'organizzazione Che mi vuole fare fuori Ma stanno in un wall bridge? No dai Non mi dire Che stanno all'interno Di un wall bridge Perché mi incazzo eh È facile Vincere così Stanno all'interno Di un wall bridge Ragazzi Grazie al cazzo E io ma non so Come si fa ad entrare qua Oppure stanno all'interno Del negozio Eh sì Stanno all'interno Porca puttana Muori? Cioè quello mi è passato davanti Salve No merda Ok abbiamo Tre minuti Per farlo fuori Sta all'interno Del negozio Ragazzi Che cazzo è? Che cazzo fa come guidi? No vabbè Assurdo Il pedone Mi viene sopra Con la moto Cioè destino Destino Allora Cerchiamo Di Organizzarci Facciamo una cosa va Giochiamo sporco Anche noi Securo serve Veicoli No scusate Abilità Organizzazione Fantasma Che poi ragazzi È un genio È un genio È un genio questo qui Che si sta nascondendo Perché? Perché abbiamo scoperto dove cazzo si trova ma continua a camperare all'interno del negozio C'è un genio ragazzi È un fottutissimo genio Il genio dell'anno Abbiamo iniziato alla grande ragazzi Con il genio dell'anno Del 2018 Guarda questo che scappa Va va scappa scappa Tanto adesso Ti faccio fuori a te E agli amici tuoi Soprattutto al tuo capo Che pensa Di potercela fare Proprio convinto Ok La porta di dentro l'hanno sigillata? Cioè sono dei geni Raga Hanno sigillato le porte O no? No Io sto prendendo fuoco È diversa la cosa Niente Riescono a spararmi da dentro il negozio Proprio Un minuto di tempo Non ce la farò mai A vincere la missione A meno che Non faccio qualcosa di kamikaze Ma Oppure Qualcosa di molto più Alla mano No Guarda che culo della madonna Che c'ha No Sì Vado ragazzi Riesco a colpirli ora Vado l'ho colpito Raga manca pochissimo 27 secondi Ho ucciso uno Ma non ho ucciso il boss Ammuzzo raga No 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 7 secondi 7 secondi Ecco il boss Sparalo Mamma mia raga Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Mancava pochissimo E ce l'ho fatta L'ho ucciso Ho ucciso il boss Madonna Voglio il premio dell'anno Ragazzi Dove cazzo è il mio premio dell'anno Mamma mia Mamma mia Ok Ok mo so cazzi vostri Guardalo Affanculo Ok partiamo L'inizio dell'anno Così ragazzi Alla grande proprio Attenzione Mi stanno ammazzando Eh vabbè È bello vincere così Mentre sto precipitando Dalla collina Cioè raga Assurdo Come l'ho ucciso Assurdo All'ultimo secondo Non mi ricordo Quanti cazzi di secondi Mancavano Tre o qualcosa in più Non lo so O anche qualcosina in meno Non mi ricordo raga Quanto edito Devo assultissimamente vedere Mamma mia È stato fantastico No mamma Guarda che cazzo di culo Ah è morto Ok vanno in acqua ragazzi Ho il visore termico Posso anche guardarvi in acqua Se vuole Sì eccoli Che cazzo fanno Vanno sulla barca Vai andate Avete fatto spawnare la barca Avevate Sono morti In ritardo Ma sono morti Grande No vabbè raga Questi qua li sto facendo incazzare Aia mi sparano No Modo Tutti a cecchinarmi Tutti a cecchinarmi No fantastico Fantastico E dai porca puttana Quando vuoi ucciderli Mai muo Grazie polizia Che mi hai Ridotto il lavoro Questo qua sta qua sopra Che mi sta cecchinando Da Il molo No Madonna Che culo Che c'è No sì L'ho colpito ed è morto Vaffanculo Questo nuota Vai Vuoi morire in acqua No Mi hanno sparato 2 a 5 però eh Mamma mia raga Questi qua proprio Li ho fatti perdere la missione No Guardalo Guardali che mi sparano Appena spawnano Eh vabbè Neanche rispawnano E già mi ammazzano Muori Vaffanculo Suka Questi qua stanno sulla barchetta No Dai Madonna Se li colpisco Madonna Se li colpisco Do cazzo Vanno Guardali Qua mi serve la mia auto La mia auto Richiedi veicolo personale 50 miliardi di poliziotti No Adesso li raggiungo io Con la macchina Madonna Che cosa li convina A meno che questo qua Non rompe il cazzo Con il lancia Missili Eh Questo farà sicuramente così Non lo so Vai Raggiungiamoli Ah Vanno allo iotti Bastardi Vanno Intanto mi sparano Col cecchino Ragà Uh Attenzione Mamma mia Mega cazzeggio Iniziamo proprio bene Lanno Ragà Iniziamo proprio bene Dov'è Dove stanno Sti bastardi Dove stanno Ehm Non so cosa fare In questo momento Sincero Scendiva Guardalo Che si prepara Guardalo Eh vabbè raga Non so come cazzo fare Vai giù 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 Ah è sceso È sceso Vieni qua Vieni qua che ti ammazzo Vieni qua che ti ammazzo Che vuoi fare Vieni qua Se lo uccidi in acqua Se lo uccidi in acqua Ho vinto tutto Vieni qua Dove va Va sott'acqua No Eh guarda quello Da sopra lo yacht Ragazzi Che salve il suo amico In difficoltà Oh Oh Gli ho uccisi Tutti e tre Gli ho uccisi Tutti e tre Facendo esplodere L'elicottero Mamma mia Che fine di merda Che fine di merda Cioè questi hanno fatto Una figura di merda Epocale Ne ho ucciso un altro Non ci posso Credere Raga Hanno riavviato La missione Di trova il boss Non ci posso Credere Vedere Allora se riesco A capire dov'è Però qua raga La zona È troppo grande Va Guarda che Coglione Cioè raga Forse l'ho trovato O forse no Io intanto Ci provo Qui c'è Qualcuno Ah Salve Scusami Non volevo Qui c'è qualcuno Ok Ho ucciso uno Della sua organizzazione Quindi Dovrebbe spawnare Vicino al suo capo Raga Eccolo L'ho trovato Ho trovato Il figlio di puttana Guardatelo L'ho trovato Col visore termico È qui raga È qui raga Mi spara Raga è qui Da qualche parte Mi ha sparato Mi sta vibrando Il joystick Raga È qui Sta sotto di lui Madonna Se riesco Madonna Eccolo Mi ha fatto esplodere Mi ha fatto esplodere con gli esplosivi Vaffanculo Madonna se lo trovo ora Raga è riuscito a scappare Ce l'avevo sotto il culo Mortacci sua Non ci posso credere Non ci posso credere Ragazzi Cioè Veramente Non Non ci posso credere Questa volta Ce l'ha fatta È vero che È vero che ho ancora Quattro minuti di tempo Mi sta rivibrando Mi rivibro il joystick Mori Bastardo No Non ci posso credere Il problema è che Questi punti di spawn Così sono veramente Bruttissimi Lontano Proprio Devo fare tutto il giro Mamma mia raga Non ci posso credere Va Due volte Mi sono trovato Faccia a faccia Due volte Con quel bastardo Niente raga Credo proprio che Sia riuscito A nascondersi Questa volta Eh vabbè Mi sono trovato Faccia a faccia Due volte Con quel cornuto Ma vabbè Tanto sta amico suo Qua che ha rotto il cazzo Niente raga Non sta sbucando Neanche sulla mappa Ah eccolo Si è sbucato Ok Era da quell'altro lato Vabbè raga Io direi che ci possiamo Salutare qui Con questo video Perché è uscito Troppo lungo Cioè Ripeto Potrei continuare Fino all'infinito Ma Intanto Qua cercano Di ammazzarmi Sto toretto Di merda Toretto Non meriti Neanche Di nominarlo Eh niente raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Questo primo cazzeggio Del 2018 Ne arriveranno altri Fatemi sapere Cosa volete vedere Quali gameplay Più che altro Volete vedere Se volete vedere Più modalità Più cazzeggi Qualsiasi altra cosa Ditemi se questi video Li faccio troppo lunghi Ragazzi Perché Se li faccio troppo lunghi Devo registrare Molto di meno Noi ci vediamo Alla prossima E Ciao a tutti Intanto Jim Come un codardo Scappa con il suo Amichetto Ma Non me ne frega più Un cazzo ragazzi Perché Ripeto A me piace soltanto Rompere il cazzo E non essere competitivo Eccetera eccetera Noi ci vediamo Noi ci vediamo alla prossima E ciao a tutti In realtà Non è vero un cazzo Ora li vado a fare il culo Sto coglione Noi ci vediamo alla prossima 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 All my brothers Got that gas And they always be smoking Like a rock star Fucking with me Call up on the Uzi And show up And them